Il timore di acquistare uno stock di costosi telefoni, poi mezzo inutilizzabili. Vodafone in Gran Bretagna ha deciso di sospendere l'acquisto degli smartphone Huawei 5G di ultima generazione e lo stesso ha fatto un altro importante operatore britannico, ii. La decisione è conseguenza della minaccia di Google, finora sospesa fino ad agosto, ma poi chissà di non cedere più i suoi prodotti e servizi a Huawei. Un effetto domino la decisione di Google dopo l'ordine esecutivo di Donald Trump che vieta alle aziende americane l'acquisto di prodotti rischiosi per la sicurezza nazionale, tra cui quelli di Huawei. Per il gigante cinese sono giorni terribili dopo che anche due operatori giapponesi hanno bloccato gli acquisti di smartphone per lo stesso motivo.